Hey voi bentornati sul canale di GeneticDNA E in questo vlog finalmente sono riuscito a registrare questo vlog Che sarebbe inerente alla scelta che fate voi per la prossima serie Allora andiamo ad elencare prima di tutto i 4 titoli Allora vediamo per PC Allora per PC voglio presentarvi un let's play di Alan Wake Di Assassin's Creed, il primo Assassin's Creed E Mass Effect 1, iniziamo con Mass Effect 1 poi vediamo E poi su Xbox 360 invece Rage Questi 4 titoli saranno 2 volte alla settimana Pensavo di fare magari il lunedì e il venerdì 2 volte alla settimana, non più di 25 minuti a let's play Perché sennò diventano lunghi e enormi infinitamente Quindi ecco, ricapitoliamo Per PC Alan Wake, Mass Effect 1, il primo Assassin's Creed E per Xbox 360 Rage In descrizione metterò ogni titolo E voi voterete col mi piace e quello che preferite che io faccia Quindi oggi e adesso siamo a sabato sera Questo video lo vedrete penso domenica o cosa Aspetterò fino a domenica prossima Poi inizierò dal lunedì l'altro che sarebbe Aspettate due secondi che guardiamo il calendario Il 10 Ecco Inizierò dal lunedì 10 a registrare Quindi già per il venerdì ci sarà il primo gameplay E niente, innanzitutto volevo dirvi che La serie di Batman e la serie di Assassin's Creed Black Flag li ho abbandonati per quanto riguarda la storia Perché era un po' un bordello Però farò delle missioni alternative Come sto già facendo con dei video un po' così a random Come sto già facendo appunto Con Assassin's Creed Black Flag e con appunto GTA V Farò così anche con Batman Arkham Origin Metterò dei video di missioni secondarie e quant'altro Per quanto riguarda appunto l'unboxing della Playstation 4 Come avete visto non è arrivato a febbraio Perché il fornitore mi ha avvisato che arriverà in ritardo Quindi il mese di marzo Nel frattempo ho anche riservato la collector di Infamous con Sun Quindi molto l'unboxing della Playstation 4 Verrà fatto in modo molto veloce E poi ci sarà l'unboxing anche appunto di Infamous con Sun E i primi gameplay sulle... Ormai queste generazioni non sono più next gen Su Play 4 Quindi niente Vi invito a lasciare appunto la scelta del gameplay che volete Del let's play di questi quattro giochi Io conto almeno... Cazzo c'ho sui 700 iscritti Non dico che voglio una partecipazione della metà Però ecco almeno un 15, 10, 15 votazioni per il gioco che devo fare Lo gradirei Almeno un 20 Poi vediamo Qui è tutto da GeneticDNA Ciao a tutti ragazzi